Salve a tutti, si avvicina l'avvio della procedura di mobilità per il prossimo anno scolastico per il personale della scuola ed abbiamo visto quali importanti novità aspettano i docenti nuovi messi in ruolo, i quali a fronte del vincolo previsto dal legislatore potranno tuttavia presentare domanda di mobilità per ottenere la sede definitiva. Tuttavia permangono alcuni aspetti critici nel meccanismo della mobilità che riguarda il personale docente Mi riferisco in particolare al limite che il contratto pone al riconoscimento della precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale nel caso di assistenza al genitore portatore di handicap grave. Sappiamo infatti che i precedenti contratti sulla mobilità e quello che è stato da poco varato non prevedono una precedenza nel caso di assistenza al genitore disabile grave nella fase di mobilità interprovinciale. Su questo aspetto la giurisprudenza già da qualche anno, dal 2015, si era orientata non in maniera univoca in effetti ma in gran parte orientata favorevolmente al riconoscimento del diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l'assistenza al genitore disabile grave. Nel 2021, lo scorso anno, è tuttavia intervenuta una pronuncia della Corte di Cassazione che ha rimesso in discussione questo orientamento giurisprudenziale evidenziando che in effetti il contratto collettivo sarebbe in linea con quel principio di bilanciamento di interessi che proprio la legge 104 tende a favorire. Dopo la pronuncia della Corte di Cassazione, tuttavia, si sta riformando un altro orientamento giurisprudenziale che si discosta in maniera critica al principio enunciato dalla Suprema Corte ribadendo che in realtà l'impostazione del contratto collettivo si porrebbe in violazione dei principi di cui alla legge 104 stessa. Si registrano infatti diverse pronunce dei tribunali in primo grado e anche in sede di appello che si discostano in maniera netta dalla pronuncia della Cassazione, sebbene altra parte della giurisprudenza si sta orientando in senso conforme. Vedremo adesso quali saranno gli ulteriori sviluppi della giurisprudenza perché sicuramente non mancherà altro contenzioso, sebbene questa riapertura dell'orientamento giurisprudenziale potrebbe dare una speranza a molti docenti che hanno la necessità di spostarsi per prestare assistenza ai genitori disabili gravi. Mi invito a seguire il sito e la tecnica della scuola ai nostri canali social per restare costantemente aggiornati. Grazie a tutti.